Vincere di nuovo al Mazzucchi per continuare a veleggiare a velocità di crociera in perfetta media inglese. Questo è l'obiettivo del Nuova Florida che cerca un altro acuto dei suoi contro il Notaresco per far proseguire la scia positiva. Buon pomeriggio amici di Sport in Oro da Ardea per la nona giornata del girone F di Serie D. Un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguanno. E partita che comincia adesso e poi appoggio per Sadai che carica il mancino interessante. Giordani la inchioda lì. Si cerca di andare subito da Calombo, il pallone poi schizza per il Bakhtawi che mette in movimento subito Boggia all'ingresso in aria. La sterzata, il sinistro e pallone che poi viene smorzato in maniera decisiva. Arriva Badan che carica il sinistro. Largo però rispetto alla porta di Giordani. Al limite dell'area arriva il 5 del Notaresco. Pulsoni che calcia all'improvviso a incrociare. Cambia ancora direzione, si poggia per spina ancora Calombo in aria. Il traversone interessante, la tocca sulla traversa Shiba. Il calcio d'avvio della ripresa ed ecco che inizia il secondo tempo. Poi Capparella si è mosso. Il 25 che si gira, lo scarico e il sinistro in porta. Di Capparella che sigla con un gol. Capolavoro. Il vantaggio del Nuova Florida, il quarto in campionato. Intanto seguiamo il Bakhtawi che controlla splendidamente il pallone. Si gira, calcia con il destro e va vicino a una rete stupenda. E poi il Bakhtawi può arrivare contro la di testa. Il Bakhtawi col destro. Deviato in porta per il gol del raddoppio. Che adesso arriva veramente. Ha segnato il Bakhtawi che è anche complice in una deviazione. È riuscito con il destro a scavalcare Shiba. Qui però muove bene il pallone verso Gelsi. Destro dalla distanza. Giordani. Qui battuta la punizione da Bruno Alessandro. Poi il destro non è perfetto. Giordani sulla conclusione di Gelsi. Che riesce a uscire splendidamente sia dalle retrovie che poi anche in zona d'attacco. Il Bakhtawi la mette giù di destro. E incrocia. È ispiratissimo il 92 quest'oggi. Qui ancora il pallone verso il Bakhtawi. Che si allarga. Poi mette dentro. Il pallone passa. Lo può controllare per chiuderla. Battuta corta. Avviene incontro Calombo. Che scambia ancora il cross. Pallone che arriva dall'altra parte. Per il Bakhtawi. Che la fa girare. E trova un gol pazzesco. Il secondo della sua partita. Doppietta del 92. Che segna così il gol del 3 a 0. Parte la punizione a giro. E ci mette i guantoni Giordani. Parte Manari a girare. Altra grande risposta di Giordani. Che cancella ancora il 3 a 1. E su questa ultima battuta. Finisce il match. Perché vince il Nuova Florida. Per 3 reti a 0 sul Notaresco. E arriva al quarto posto. A meno 1 dall'Alma Juventus Fano. Prima dello scontro diretto della prossima settimana. Contro l'Avezzano. Grande vittoria per gli uomini di Del Grosso. Che c'entrano la terza vittoria consecutiva in casa. E salgono come detto al quinto posto della classifica. Per questo match è tutto. Dal Mazzucchi di Ardia. Un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguano.